Prendi questa vicenda del Canaletto e il Bellotto, zio e nipote, li conosci, c'è una mostra a Milano molto bella. Sono due paesaggisti veneziani che hanno riempito l'Europa dei loro quadri. Meravigliose rappresentazioni della Venezia e poi di altre città europee che hanno riprodotto con una cura maniacale. Ma tu lo sai che in fin dei conti erano dei venditori, non erano degli artisti, perché loro erano nel business del ricordino. Già, perché quella era l'epoca dei grandi tour europei. C'erano questi viaggiatori, soprattutto nobili inglesi, che giravano l'Europa. Arrivavano a Venezia, si innamoravano della città e volevano portarsela a casa. E allora, siccome non c'erano ancora questi aggeggi qui e non potevano farsi il selfie in piazza San Marco con i piccioni, che cosa facevano? Chiamavano il Bellotto, chiamavano il Canaletto, gli dicevano me lo fai tu il ritratto di questa meravigliosa piazza, magari ci metti dentro anche me in qualche modo. E questi via a sfornare un quadro dietro l'altro, poi magari glielo spedivano anche in Inghilterra. Che cosa hanno fatto questi due signori? Hanno fatto delle cose che dobbiamo imparare. Primo, hanno capito qual era il mercato nel quale intervenire immediatamente. C'è un mercato nuovo, prendo l'arte, la ridefinisco e la faccio diventare business. Secondo, hanno creato un marchio. Il Bellotto a un certo punto si separa dallo zio, lo zio va in Inghilterra, lui va nei paesi dell'Europa dell'Est, l'Europa centrale, e cosa succede? Si fa chiamare Canaletto, perché quello era un brand, era un marchio di fabbrica. Bellotto detto il Canaletto. Lo zio si è un po' arrabbiato per questo, infatti hanno litigato, ma ciò non toglie che lui ha piazzato un brand importante. Terzo, ha capito che doveva differenziare. Fa lo stesso quadro per il principe e per il primo ministro, per l'imperatore e per un nobile, ma li fa un po' diversi. Quello per l'imperatore è un po' più pieno, un po' più bello, un po' più ricco. L'altro è simile, ma con qualche particolare in meno, perché sa che deve differenziare il prodotto. Non facciamo le cose in serie, ma customizziamole, personalizziamole. C'è tanto da imparare da loro, c'è tanto da imparare dall'arte. Come possiamo applicare tutto questo nel tuo mercato?